ce l'abbiamo ce l'abbiamo l'abbiamo trovata eccola che fa scappa questa scappa l'abbiamo presa l'abbiamo presa eccola qua fantastica bellissima che hai fatto la prova del palloncino e no questo è un colibri perché io sono una veterinaria e devo prendermi cura del mio colibri questo è un colibri allora l'originale proprio è certo guarda ci sono le ali ci sono le ali come mio mi dicono la regia il mio è così è una forma un po un po un po un po si dai ha mangiato stanno prendendo appunti come ti chiami valentina da dove vieni bovolone bovolone il paese dei crispi dei crispi giusto e quindi l'idea da mangiare i crispi si dai si dai quelle sono le amiche tutte queste sono floreali che carine lei mi ha fatto una carellata sull'amica un attimo che me le carelli intanto che le carelle mi dici nomi e leonora no al contrario quella vedi doveva la deco bella e leonora e poi ce ne sono delle altre la dispersa e non pervenute giusto e con che disposito invece con matteo matteo lui sarà il tuo cucciolo allora certo quindi lo tratterai come un cucciolino come un colibri quindi allora ti dedicherai l'attenzione al colibri di matteo giusto se ragazze signori questa la nostra sposa ha detto dichiarato ufficialmente poi dillo alla telecamera poi dillo a tutto il mondo che cosa farai si prenderò cura di matteo come se fosse il mio colibri no no hai detto diversamente prima allora ve lo ripeto io anzi ripetilo te prima cosa ho detto non mi ricordo si ricorda più mi prenderò di noi sempre mi prenderò cura del colibri di matteo è palese palese è vero vero guarda che l'amica testa quella riso subito è sì 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 allora ufficiale questa ragazza per per tutta la vita mi prenderò cura del colibri di matteo si piace la spontaneità della nostra della nostra ragazza ha fatto una dichiarazione incredibile ma adesso vai in mezzo alle tue amiche ok signori signori ormai l'ha dichiarato l'ha dichiarato l'avete sentito ragazza non l'avete sentito lo ridici davanti a tutte le tue amiche vedono video domani è pronte quella una telecamera lo mettiamo sul sito questa ragazza ormai in testa sono i colibri questa ok mi prenderò cura di matteo no 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 colpo di scena no 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 dillo subito abbia affiancata affiancata la venite venite affiancata la cosa deve dire davanti a tutte le amiche mi prenderò cura del colibri di matteo grande sposa grandissima vale 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 Grazie!